Chi è L? Tu hai il debole comunque per il meme in spagnolo Mio Dio Salve carissimo Bertra, come sta? Poldo, visualizza la challenge Bertra, legata ad una sedia Io ho capito che tu hai un po' un feticismo nel pensarmi legato in giro Però basta esternarlo così tanto Tipo scena alla Trevor che tortura Guarda, guarda, ce la provo Vuole legarmi Bellissima challenge Bellissima E poi tra parentesi mettiamo 100% pazzesca Signor Bertra, benvenuto Lei è il terzo ospite di questa fantomatica serie Chiamata Copa Meme Reaction In cui praticamente c'è un ospite Mamma mia La chat fa vedere i meme Sto parlando, se per favore puoi stare zitto mentre parlo Poi parli dopo Mamma mia, wow E la chat manda i meme Incredibile E tu li guardi Stupefacente E ci dici se ti piacciono Wow Sono confuso Sì, anch'io non l'ho capito Però forse non devi capirlo, devi assimilarlo Comunque quella L enorme in mezzo penso sia la parte più bella del video Pezza per Adam West Una scena dei griffi in fondo Purtroppo per via delle direttive americane ed europee sul copyright non potremmo vedere questa clip È peccato, la volevo proprio vedere Adesso l'avrei visto un botto Pure questa purtroppo per il copyright della San Montana non possiamo vederla ragazzi Grazie Che dispiacere L'hai vista la storia di Erfaina che risolve la guerra tra Palestina? La che risolve il conflitto israelo-palestinese È pazzesco, cioè ha trovato una soluzione pazzesca Ma raga, basta fa' guerra, cioè mettetevi d'accordo Basta Basta guerre, basta morti ammazzati Facessero due stati Fate due cazzo di stati Uno stato di Israele e uno stato riconosciuto palestinese È la versione italiana di quella che faceva Perché siete senza tetto? Compratevi una casa Esatto, esatto Scusa, ma perché muoiono i bambini di fame? Dategli da mangiare Ah raga, quando c'ho fame io mangio Che scimmia Che sono stupidi sti bambini che non manciano Fermo Sei in arresto per possesso di Spookman Sei esatto, la sbrugna Non come dico io lo spreva Esatto, fuori legge Va subito come dice il mio collega e svuota quelle palle bellissime Devo dire, veramente belle, 9 su 10 Che comportamento su Cinco, ma cinco, patata Tu hai il debole comunque per i meme in spagnolo Sì, i meme in spagnolo ma possono essere anche video lineari in cui non succede un cazzo Se qualcuno parla in spagnolo Sono con te Fa più ridere il fatto che questo post sia stato fatto da Forza Roma U 2008 A me ha fatto molto ridere il fatto che sia piccolissimo dello schermo occupa tanto così Tipo i scene, le mutande Tipo i scene, le mutande O forse i cagli scuri Cagli scuri No, il mio putto è debole Io non lo guardo Ah, è il WiiWi Bellissimo È il WiiWi L'altra volta ho provato un cazzo Sai quale è stata la prima canzone che ho provato a fare col cazzo Splash tutto No No, era io vagabondo dei nomadi Perché l'hai fatto? Non lo so Ok, ora dobbiamo tutti dire Per favore Sono lillo Ma donna Ci sono pure gli effetti video Questa è la risata dentro Ma cos'è questo effetto? Ma scusi Ma anche prima c'era l'effetto curse su FedEx Sono io che vedo Che la foto profilo Del profilo YouTube Che ha caricato questo video È Pepe Pepe Sad people Israeliano Facciamo anche noi Perché ho visto che un sacco di YouTuber l'hanno fatto Andiamo nello studio degli Eniub E facciamo LOL Chi ride alla molonucleosi E quando ridiamo ci baciamo in bocca Te limoniamo proprio male Il treno Intercity Notte 1699 Di Trenitalia Proveniente da Torino Porta Nuova È diretto a Salerno Esatto È in arrivo al binario 15 Qua ma io pensavo fosse Tipo un pattern del treno Sono persone queste Ah non te ne riaccordo? E no Can you hear the silence? Can you see the dark? Can you fix a broken? Can you feel my? Sei spagnolo per loro The Lars Oh no È di nuovo lui Puoi dire uno È di nuovo lui Il misterioso L È L Chi è L? Tieni L'ho fatto per te Ci ho messo tanto tempo E Spero ti piaccia Ah sì Mamma You'll never believe what happened Nooo A me è piaciuto Nooo Ma è il video sottofondo Qualcosa è? No ma è troppo bello mutar La violenza Vero del titolo Nooo Ma perché? Ma perché? La copertina di questo video È The Rock Più pompato di quanto dovrebbe essere Aspetta Aspetta A una Nissan 350Z A placata d'oro Perché? Non so come farlo vedere Ecco Ma perché? Quando sborri Quando non sborri Next Poi il nome del canale Magali Lord of Cinder Why did they stop talking with me? Am I boring? Am I Italian? Perché tutti non mi parlano più Forse sono Italiano? Peppa I don't want to die It's too late George Mio Dio Che cazzo è Che carino Oh È veramente Oh no Biscotto Oh Cristo Dio Ma perché tutte le cose adorabili vanno a finire in questo modo? Fucking disturbante Porca troia Ma no Quando non sborri Ma quanto veloce l'hai fatto Ce l'hanno fatto Ma l'ho fatto poco fa letteralmente questa cosa Cioè me li sono messi poco fa gli occhiali Extra post Nooo Aspetta Nooo Saranno le gare di circuiti Malese Metti il dito nella L'ho messo Domanda da parte della chat Bertra cosa ne pensi di EpicFit? Grandi seghe Io dico sempre grass burrada Cioè sono collegato Ma perché tu pensi di più alla destinazione piuttosto che al viaggio A me piace godermi il viaggio Sei stato veramente un ospite fenomenale come pochi Me lo diceva sempre Pacciani Eh? Ciao a tutti Ciao a tutti Ciao a tutti Ciao a tutti